Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, studio Marco Garcini. Attenzione ai veicoli fermi o in avaria INA1 tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione Roma e in FIPILI tra il bivio colla 12 interporto Toscano Ovest in direzione Firenze. Ancora in FIPILI e attenzione al personale sulla strada in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Pisa. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per i lavori alla linea 2 della tramvia fino a domani restringimenti di carreggiata in Viale Guidoni da Viale degli Astronauti all'intersezione con Viale 11 Agosto. Restano due corsie in direzione ingresso città. Sempre a Firenze si ricorda che oggi verrà inaugurato il bypass del Galluzzo che collegherà via Fenese alla Siena-Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!